Ogni anno, in occasione degli esami di Stato, ritorna l'ormai consueta polemica. L'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, quello che si chiamava un tempo maturità, ha ormai perso gran parte del suo valore. Lo stesso voto finale serve a poco perché non sempre se ne tiene conto per l'iscrizione all'università o per i test di ammissione. Ormai è chiaro che si tratta per lo più di un passaggio simbolico. E allora, tenuto conto che l'esame ha comunque un costo, perché non si decide di abolirlo del tutto? E ogni tanto in effetti c'è qualche forza politica che parla di eliminazione della maturità, ma senza tenere ben conto delle difficoltà che comporterebbe un provvedimento del genere. L'esame di Stato, infatti, è espressamente previsto dall'articolo 33 della Costituzione che recita. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi. Questo significa che per eliminare l'esame di Stato è necessaria una legge costituzionale che richiede una procedura lunga e complessa, in genere, per approvare una legge costituzionale sono necessari un paio d'anni. Peraltro, neppure l'esame di terza media può essere eliminato con decreto ministeriale o con legge ordinaria. Anche quello, infatti, è un esame di Stato che arriva a conclusione del primo ciclo di istruzione. Agli inizi degli anni 2000, per la verità, venne eliminato l'esame di quinta elementare e anch'esso era considerato di Stato, aggirando però il problema. Scuola elementare e scuola media vennero aggregate in un unico ciclo di istruzione e quindi non fu più necessario prevedere l'esame al termine delle elementari. Fino al 1977 la scuola elementare era a sua volta articolata in due cicli, tanto che fino a quell'anno, anche al termine della seconda classe, gli alunni sostenevano un vero e proprio esame di Stato. Abolito però proprio con la legge 517 di quell'anno, che prevedeva che la scuola elementare non fosse più suddivisa in cicli. Insomma, eliminare gli esami di Stato si può fare, o con una legge costituzionale o con una riforma di natura ordinamentale, ma il percorso non è affatto semplice.